Benvenuti a questo speciale classe NBC dagli studi di Londra di CNBC Europa, oggi è il nostro gradito ospite Alessandro Chiarini, CEO di Tender Capital, benvenuto, grazie per essere con noi Alessandro, naturalmente per cercare di analizzare insieme un pochino quello che sta succedendo nel nostro paese naturalmente, in vista di questo secondo semestre che si sta aprendo comunque all'insegna di stress test, di asset quality review, quindi le banche restano comunque diciamo protagoniste sotto la luce dei riflettori, com'è il quadro? Il quadro non è particolarmente chiaro e limpido, abbiamo una crisi economica che va avanti da 7 anni, in 7 anni l'Italia ha perso 7 punti percentuali del PIL, ha avuto un impatto importante sia sulla domanda, sui consumi e anche sulla produzione, naturalmente l'effetto collaterale è un sistema bancario che è diventato molto avverso per quanto riguarda il rischio e se vediamo anche i dati del 2014 abbiamo visto un primo trimestre in Italia negativo, adesso aspetteremo i dati del secondo trimestre, ma la Banca d'Italia ha fatto indicazione per una crescita del PIL in Italia del 2014 a 0,2%, dunque è molto basso, è molto anemico come crescita, per quanto riguarda il 2015 siamo ancora a livelli molto bassi di 0,5%, ma la cosa importante è che noi abbiamo visto che un'avversione a rischio da parte delle banche italiane ha comportato un meno circolazione della liquidità e un aumento dei crediti in sofferenza. Esatto, questo è soprattutto un grosso problema, un aumento dei crediti in sofferenza, un problema che le grandi banche, Unicredit e Interesa hanno tentato di risolvere creando una unit a parte, se vogliamo chiamarla, una unit a parte, ma può veramente funzionare anche perché poi i crediti in sofferenza sono aumentati moltissimo su tutti i fronti nell'ultimo periodo in Italia. È vero, dal 2008 ad oggi abbiamo avuto un incremento dei crediti in sofferenza sui impieghi totali da sotto il 5% a circa il 18%, questi sono ultimi dati che arrivano dalla Banca d'Italia. Naturalmente come ambiti settori di riferimento in prima posizione abbiamo le amministrazioni pubbliche, poi abbiamo le società non finanziarie, poi le famiglie produttrici e le famiglie consumatrici, ma comunque è un'indicazione molto negativa perché anche le banche stesse con livelli di crediti in sofferenza così alte non danno più impieghi. A quel punto loro hanno fatto anche una riduzione del rischio totale abbassando il loan to value che è abbastanza importante e dunque prendono infatti meno crediti, erogano meno crediti e questo rallenta l'economia. Esatto, questo è un problema che naturalmente in Italia c'è sempre stato, in ogni caso l'accesso al credito, o tassi molto alti o comunque proprio difficoltà ad avere un prestito perché ci sono comunque dei canoni, delle richieste che sono molto difficili da ottenere. Quanto possono aiutare le recenti mosse della Banca Centrale Europea, in particolare questo Targeted LTRO? Sì, infatti Draghi ha fatto l'emissione di questo Targeted LTRO che è dedicato ai finanziamenti delle piccole e medie imprese, si eseguerà in due tranche, a settembre avremo le prime 400 miliardi di Euro con durata 4 anni, a dicembre 600 miliardi di Euro durata 4 anni. Comunque è dedicato ai finanziamenti delle piccole e medie imprese, le banche possono attingere a questo LTRO, però entro gennaio 2016 deve essere direzionato verso le piccole e medie imprese, altrimenti rimane un LTRO normale. Se invece è dedicato verso le piccole e medie imprese, a quel punto la durata si estende a 4 anni, però le banche non sono obbligate a attingere a questo LTRO, loro hanno il loro bilancio, hanno la loro situazione patrimoniale che devono fare attenzione che corrisponde al Tier 1 ratio dei stress test a novembre, dunque ci deve essere molto moral suasion sia da parte della Banca Centrale Europea sia da parte del governo italiano che devono mostrare riforme strutturali che l'Italia sta sulla via della crescita. In questo momento è sicuramente un momento molto caldo, riforme strutturali che sono state annunciate, che per il momento ancora non sono giunte o comunque solamente in parte effettivamente, Alessandro, com'è qui la situazione veramente? Perché c'è anche da tenere in conto quella che poi è la percezione che si ha dal di fuori dell'Italia, del nostro paese, naturalmente tante cose sono cambiate, un governo Renzi, le elezioni hanno detto comunque Renzi effettivamente poi al governo con il 40% dei voti, però ci sono ancora tanti punti interrogativi perché queste riforme hanno difficoltà poi a passare. Sì, le banche naturalmente sono preoccupate, lo stress test che adesso sarà automatico a novembre hanno fatto una versione informale a maggio e dunque abbiamo avuto adesso dei incrementi, aumenti di capitale da parte di varie banche intorno ai 10 miliardi e mezzo, abbiamo visto Banco Popolare un miliardo e mezzo, Montepaschi per 5 miliardi di euro, anche Cariger per 800-900 milioni di euro, questa è in preparazione per l'automatismo a novembre perché dopo novembre diventa automatico, entro due settimane devono rimanere entro i limiti stabiliti dal European Banking Authority, dunque guardano molto attentamente quello che fa Renzi. Renzi in questo momento abbiamo visto un primo approccio, un stanziamento di 16 miliardi di euro per quanto riguarda i debiti della pubblica amministrazione verso i privati, questo per far circolare effettivamente crediti all'interno del sistema, questo su un totale di 40 miliardi, dunque questo è un primo passo, stiamo in attesa di altre riforme più importanti per quanto riguarda la flessibilità nell'ambito del lavoro, la riforma della giustizia, questi sono elementi importanti, anche la riduzione della prorogazia, ma è tale che le banche possono vedere effettivamente che anche il governo è interessato a far crescere l'Italia e dunque le banche stesse sono più volenterosi a dare credito alle piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese, accesso al credito, i problemi restano, tasso su depositi sotto lo zero, potrebbe in qualche modo comunque aiutare le banche o spingere le banche poi a prestare di più? Questo è un dato tecnico, diciamo che effettivamente dicono le banche se voi volete mantenere i soldi overnight vi carichiamo dei costi, dunque in quel punto le banche devono cercare altri impieghi, facendo il targeted LTRO e a quel punto spingono le banche verso altre forme di credito che potrebbero aiutare a far cicolare l'economia. Noi siamo molto attenti a guardare effettivamente lo sviluppo del PIL in Italia, questo è importante perché 0,2 è veramente troppo basso, anche 0,5 abbiamo l'inizio di crescere ma stiamo parlando del 2015, dobbiamo veramente vedere dei segnali importanti, e speriamo in un dato che è magari flat per il secondo trimestre ma che abbiamo un dato positivo per tutto l'anno, così c'è speranza per l'Italia per crescere in futuro. Anche perché uno dei grossi problemi in questo momento è la riduzione del debito, rimane forse il problema principale della nostra economia e naturalmente con una crescita così bassa ridurre poi il debito PIL diventa sempre più difficile Alessandro. Eh sì, diventa sempre più difficile perché parliamo di numeri enormi, anche per quanto riguarda i credito in sofferenza stiamo parlando di 166 miliardi di euro, stiamo vivendo, stiamo vedendo alcune banche che stanno cercando di staccare, di vendere alcuna parte di questo debito, anche delle società di private equity straniere che l'hanno fatto in Spagna per esempio, l'hanno fatto in Portogallo, adesso stanno mettendo un occhio anche sull'Italia, questo potrebbe essere l'inizio di un processo importante, interessante alle banche per migliorare i stati patrimoniali e anche per l'Italia per dare un segnale concreto per gli investitori stranieri di venire in Italia che è un paese in cui bisogna investire. Ecco, naturalmente bisogna fare di più anche per attirare questi capitali stranieri. Vi aspettate che ci possano essere altri aumenti di capitale? Abbiamo citato alcune delle banche che hanno fatto degli aumenti nell'ultimi mesi, nell'ultime settimane, vi aspettate altri da qui alla fine dell'anno, magari prima comunque di Starstess e Asset Quality e The View Alessandro? Il problema è un discorso temporale, perché una volta che entra in atto questo automatismo le banche hanno due settimane di tempo, se si trovano più banche a fare aumenti di capitale nello stesso periodo diventa abbastanza difficile per le banche fare aumenti di capitale. Tutto ruota intorno al PIL italiano, se il PIL inizia a crescere e girano i crediti, dunque gira l'economia, a quel punto è tier 1, capital ratio delle banche dovrebbero rimanere abbastanza ferme. Se invece assistiamo a un PIL che va in tendenza negativa o neutrale, ci potrebbero essere nuovi aumenti di capitale. Infatti ci possiamo aspettare più una probabilità di nuovi aumenti di capitale verso la fine dell'anno o all'inizio del 2015 rispetto a sei mesi fa. È anche vero però che le nostre banche sono state abbastanza solide finora, con tanti problemi, però più solide di altre banche e di altri paesi. Forse anche per esempio la Germania non hanno avuto problemi nei paesi come la Germania, la stessa Inghilterra, la Francia, non ci sono stati questi problemi, non ci sono stati aiuti arrivati dall'Europa come è successo in altri paesi, in primis la Spagna perché gli aiuti li ha avuto soprattutto sulle banche, però i problemi poi restano a livello strutturale, a tanti livelli perché diciamo sì a livello strutturale però c'è poi anche il livello di mentalità che forse è difficile in questo momento cambiare. Da un lato la Banca d'Italia adotta una forma restrittiva molto ampia per quanto riguarda i credi in sofferenza, anche se un credito è garantito, il mancato pagamento di un'unica rata comporta un credito in sofferenza per le banche italiane, questo non è vero per il sistema bancario europeo, dunque la Banca d'Italia è molto stringente per quanto riguarda le banche italiane e giustamente per questo che noi abbiamo un numero elevato di credi in sofferenza, 18% rispetto all'Europa che è una media intorno a 10%, dunque effettivamente noi rispettiamo la negatività adesso rispetto a molto altri che probabilmente arriveranno in futuro. E questo naturalmente è un dato positivo, però una volta che viene sotto controllo dell'European Banking Authority, i livelli del Core 1 Tier Ratio diventano più un discorso europeo, non un discorso italiano. Io credo che le banche siano preparate, però servirà all'aiuto dell'Italia stessa, una ricrescita del PIL per aiutare tutto il sistema ad andare avanti. Ecco, però cerchiamo di capire se in questo momento vale la pena allora comprare le banche, vendere le banche, è un buon investimento, sono un buon investimento o sono un investimento ancora troppo rischioso? Facciamo una distinzione tra l'azionario e l'obbligazionario, se ci troviamo in una situazione che il PIL italiano effettivamente cresca al 0,2% è un dato veramente anemico e dunque è più probabile che avremo ulteriori aumenti di capitale, questo avrà un impatto negativo per quanto riguarda gli azionisti. D'altro lato invece gli obbligazionisti, specialmente gli obbligazionisti dei senior bond, dell'emissione senior invece sono tranquilli perché effettivamente con aumenti di capitale non ci sono problematiche in termini di rimborso, dunque favoriamo continuamente la parte obbligazionaria delle banche, la parte azionaria aspetteremo verso la fine dell'anno prima di essere più positivi. Ecco invece per quanto riguarda proprio il panorama europeo, come sono le altre banche? Abbiamo detto quelli sono stati i problemi pre-crisi, pre-stress test, pre-ass quality review, prima che fossero decisi poi diciamo gli stress test e le ass quality review. In questo momento invece come vede proprio il quadro bancario anche in Europa, Alessandro? Sono sotto tensione alla fine perché poi questo nuovo stress test spenderà in considerazione 128 banche europee e anche sei banche non europee perché entrano nell'ambito banche come UBS, come Royal Bank of Canada che sono stati identificati come banche che potrebbero avere un rischio sistemico in Europa se dovesse succedere qualcosa dunque l'hanno inserita all'interno di questo gruppo. Dunque tutti stanno riguardando i loro patrimoni, tutti stanno riguardando il loro stato patrimoniale, i loro balance sheets per assicurarsi che effettivamente a ottobre o novembre riescono a rispettare questo tier core one ratio dell'8% e fanno molta attenzione e sono molto attenti a tutto il discorso che fa Draghi per quanto riguarda il long term refinancing operation perché lì possono attingere per cercare di migliorare anche i loro valori patrimoniali. Dunque molta attenzione. Detto questo, le banche americane invece hanno sofferto molto, naturalmente la grande crisi è partita proprio dalle banche americane, la famosa crisi dei subprime, abbiamo visto poi il crollo di banche come Lehman Brothers, eccetera, quindi non sappiamo. Adesso anche lì si è fatto molto per rimettersi in sesso, forte intervento della Federal Reserve, però rimangono comunque per alcuni versi i banchi ancora non fragili forse, però ancora con delle difficoltà. Abbiamo visto le prime trimestrali che stanno arrivando in questo periodo, non sono malvagie per alcuni versi, però per altri mostrano, come dicevamo, che ci sono, mostrano ancora dei problemi. Com'è qui la situazione? Anche guardando al problema crediti deteriorati, per esempio. Sì, in America hanno avuto un'inizio di liquidità molto forte sin dall'inizio della crisi, dunque la liquidità per le banche americane non è mai stata un problema, invece l'Europa la liquidità è arrivata successivamente. Dunque hanno potuto riorganizzare i loro stati patrimoniali, i loro balance sheets e concentrarsi su effettivamente lo sviluppo economico delle varie aree, dunque dall'investment banking al broking al trading, dunque hanno fatto una ristrutturazione veramente dalla banca all'interno. Le banche europee invece hanno dovuto fare una ristrutturazione della liquidità, dei coefficienti patrimoniali in ambito molto più accurato e importante rispetto all'America stesso. Dunque effettivamente le banche americane hanno beneficiato prima e dunque stiamo vedendo risultati positivi ora, cosa che ci aspettiamo anche per le banche europee nei prossimi due o tre anni. Ecco, per le banche centrali europee ha agito da poco, secondo qualcuno ha dato troppo tardi, è vero? Si poteva fare di più, si poteva fare qualcosa prima di adesso, insomma il mese di giugno in cui è stato annunciato, perché poi prima che vediamo i risultati ovviamente ci vorranno dei mesi. Col seno del poi è sempre facile fare queste tipologie di argomentazioni, però la paura principale all'inizio era l'inflazione, dunque un'inflazione troppo alta avrebbe comportato dei stress importanti per quanto riguarda l'economia stessa. L'inflazione è un separato, abbiamo visto gli ultimi dati sull'inflazione molto molto bassi, dunque effettivamente la gente dice che si poteva fare molto prima, però adesso che vediamo che i dati dell'inflazione sono bassi possiamo fare di più, infatti ci aspettiamo questo nuovo target dell'OTRO, intorno a 1.000 miliardi di finanziamenti possibili per quanto riguarda le banche, dunque adesso stiamo mettendo in moto la futura crescita dell'Europa, adesso meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai, l'inflazione però rimane ancora molto bassa come stavamo dicendo, vi aspettate nuovi interventi da parte dell'ABC anche per il futuro Alessandro? Secondo me loro guarderanno attentamente i dati dell'inflazione dei prossimi trimestri, incluso anche i dati del PIL di tutto il sistema europeo e vedranno se siamo sulla direzione giusta, questo che vedremo anche noi prima di favorire per esempio investimenti nell'ambito azionario bancario, guarderemo attentamente i dati macroeconomici prima di fare una decisione per il 2015. Il futuro per l'Europa adesso com'è quindi? Ancora non particolarmente rosa, si sta uscendo però comunque dal tunnel, la luce alla fine del tunnel dovrebbe esserci, quando si uscirà dal tunnel Alessandro per concludere? Secondo noi siamo a un livello molto basso, dunque da adesso in poi possiamo o salire o rimantenerci a stessi livelli, un dato molto importante che noi abbiamo visto è la disoccupazione che faticosamente sta scendendo, se vediamo lo slancio più forte sarebbe molto più positivo per quanto riguarda l'Europa, io credo che ci sia un'azione concentrata da parte di tutti i vari governi europei di aumentare questa occupazione che è un dato molto importante per stipulare la crescita economica. Tutti questi fattori messi insieme ci daranno più fiducia per quanto riguarda il 2015, comunque il 2015 migliore rispetto al 2014. Almeno quello, anche se si diceva che sarebbe stato il 2014 l'anno della svolta, ma si aveva detto se non sbaglio anche nel 2013, invece insomma più lento che quanto previsto insomma di quello che si era previsto. Grazie per essere stato con noi Alessandro Chiarini, CEO di Timer Capital, grazie a voi per averci seguito in questo speciale Classi MBC dagli studi di Londra di Siamisi Europe, ci vediamo ancora più tardi, arrivederci.